Allora Medeo cosa dici della tappa di oggi? Beh una bella tappa impegnativa, siamo partiti col sole e arrivati diciamo con un tempo nuvoloso ma fortunatamente noi abbiamo evitato l'acqua mentre i corridori quelli veri ne stanno prendendo parecchia C'è andata bene C'è andata bene sì Concordo pienamente è stata una bellissima tappa un po' troppo dura direi però va bene è stato bello così fortunatamente sono stati fortunati quindi alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti